presentati presentati strozzo sono francesco quello del video ricordiamo francesco paolo pettinari è l'uomo del video del negozio ecco questa monetina io la lanci in aria tu la devi prendere senza farla rimbazzare stando fermo con la mano se la prendi la monetina è la tua te la tieni se la monetina casca tiri fuori tiri fuori una monetina tua lanci e la devo prendere io se la prendo me la tengo ok sta più biglio dai lanci sta più biglio dai lanci sta più biglio aspetta rifacciamola 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 no adesso tocca a te facci tu quella monetina tua io il primo lancio l'ho fatto dai a loro dai mi sono ricercato non dono e non 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 ma la stessa dove ho fatto dopo che vogliono inviare indirittura fatta l'incorso porto sono in realtà la storia ora è stata un'altra cosa la prima volta la foto spostamo trattato sotto a me neanche questo per i mondiali che era domenica questo è meglio per te